Berlusconi è ingegniosissimo, un uomo di un'astuzia sopraffina, si rimangia tutti, però è anche un po' analfabeta, non sa nulla, dice che il colpo è un golpe, ma come un golpe? Il golpe ha una definizione precisa, è una congiura all'interno dello Stato per conquistare lo Stato, lì lui non c'è stato né congiure dello Stato né per conquistare lo Stato, quindi dice un golpe contro di me. Il 27 si vota la decadenza di Silvio Berlusconi, secondo lei c'è ancora qualche margine di manovra, ancora qualche cavillo per cui si può salvare? Lui è un personaggio che ha sempre vissuto di salvagenti, quindi è un genio dell'autosalvataggio, ma non vedo cavillo giuridico che lo possa salvare, se aveva delle carte dovrebbe produrre durante il processo, è durato anni e anni e anni. Se decade sarà fuori dal Parlamento, dovrà scontare la sua pena, però vuole andare alle elezioni, però lui non si potrà candidare, quindi perché vuole andare alle elezioni? Perché le elezioni lui non sarà candidato, ma pensa di vincere lui, farà tutta la campagna elettorale, sarà sempre in televisione, ha ancora tutte le sue televisioni, non è mica che sia senza artiglieria Berlusconi, Berlusconi l'artiglieria ne ha parecchia. Se riesci a farli vincere al suo partito, lì ha un grosso sostegno per tornare al Senato e dire no, la sentenza non va bene. Cioè si farà fare un lodo successivo? Si farà fare un lodo successivo. Ma vede nel centro-destra delle personalità che possano sostituire Berlusconi? Come carisma? No, sostituire Berlusconi è impossibile perché come fiuto politico, come capacità elettorale e anche di corruzione, intendiamoci, è imbattibile. L'uomo è forte, indubbiamente, però insomma è ingrassato, si vede imbuzzito, quindi la sua parabola anche fisicamente, ma l'altro giorno il dottore è dovuto intervenire. Senta, ma consiglierebbe a Berlusconi di andarsene, di fare come Craxi? Per l'Italia è una liberazione se scappa, secondo me. È una liberazione? Sì, perché ci leviamo un ingombro che ormai è solo un ingombro, non solo non può andare in prigione, ma dice non vuole andare ai servizi sociali, può scappare all'estero, oppure si ricovererà in Vaticano. In Vaticano? Sì, dice che Putin, leggevo stamattina che Putin lo potrebbe nominare l'ambasciatore russo al Vaticano. Ah sì? Ma di stramberie, dico, sono in vento di tutte, forse Vaticano non lo vuole, tra l'altro, dico.